Dopo quasi un mese il Città di Brindisi torna alla vittoria, lo fa in casa al Fanuzzi contro il Campania grazie ad un gol decisivo di Albano. Perciullo e i suoi uomini si tratta della prima vittoria del 2013, si tratta soprattutto di tre punti fondamentali per smuovere le acque in una classifica pericolosa. Biancazzurri in campo con il solito 4-3-3 e l'inizio è incoraggiante al terzo minuto. Mariano sfiora il gol negato da una deviazione fortuita. Al decimo punizione dalla tre quarti, batte la Boraggine che pesca a cacace il cui colpo di testa termina a lato. Preludio del gol del vantaggio, al diciottesimo ancora la Boraggine verticalizza per Albano che fa scorrere la palla, entra in area e con un destro sul primo palo beffa Vigliotti e 1-0 il risultato non cambierà più. Anche perché il Campania ci prova ma gli ospiti rimangono in 10 e la mezz'ora quando Baratto prende a calci Bove, rimasto a terra dopo un contrasto. Nella ripresa è ancora il brindisi a dettare il gioco, al 55esimo tedesco sfiora il raddoppio con un palonetto, al 69esimo ancora tedesco servito da Xireno colpisce la traversa. L'ultima occasione del match all'ottantunesimo è ancora le Biancazzurri ma sull'asse Albano-Laboraggine si fa trovare pronto il numero 1 Campano. Finisce 1-0 per una vittoria che non fa certo sognare ma respirare quello sì.